amiche amici siamo al 20 agosto e ben trovate trovati al manaco oroscopo ci ricorda oggi san bernardo i compleanni e lei arisa la cantante nata il 20 agosto del 1982 una brava ballerina adesso conduttrice sia in radio che in tv rossela brescia 20 agosto 1971 c'è l'oroscopo di oggi il proverbio ci ricorda alla prima acqua d'agosto cadono le mosche quella che rimane morde come un cane ariete allargate il campo d'azione gioverà al vostro bisogno di dinamismo e al vostro innato gusto per vivere situazioni avventurose qualche tentazione di infedeltà in amore venere vi rende particolarmente intraprendenti toro buon inizio di giornata infatti un desiderio si realizza subito qualche contrasto con i figli da sdrammatizzare in amore chiaritevi le idee e non recriminate servirà a rendervi alquanto disponibili gemelli nuovi e stimolanti contatti sociali vi arricchiscono e vi danno maggiore sicurezza in voi stessi più problematici i rapporti con l'ambiente che vi circonda in famiglia siate più espansivi e tolleranti viaggi favorevoli per chi sa approfondire gli interessi cancro giornata importante e decisiva per i vostri progetti le cose prendono la piega giusta ascoltate il consiglio di un esperto non tarderete a risolvere una questione di carattere amministrativo buone intuizioni in ogni campo leone in amore e nei rapporti col mondo circostante supererete gli ostacoli grazie a una più serena visione delle cose evitate di programmare la giornata meglio gustarla attimo per attimo vergine sole e mercurio vi danno iniziativa senso dell'organizzazione e chiarezza mentale possibilità di espandervi molte direzioni e di recuperare consensi facilitazioni ed ottimismo in amore è meglio giocare in difesa bilancia qualche sbalzo d'umore vi rende imprevedibili non sempre è facile capirvi tenetene conto venere vi aiuta a contattare con successo ambienti diversi attenzione a non affaticarvi il sonno vuole la sua parte scorpione dialogo amoroso in primo piano non nascondete i sentimenti e guardate oltre i preconcetti e i modelli stereotipati avrete comunicativa e voglia di aprirvi al mondo circostante al di là di ogni schema prefissato ottime energie da spendere sagittario cercate di rendere gli altri partecipi delle vostre speranze dei vostri progetti qualche indecisione provocata da desideri contradditori volere tutto e subito non sarebbe saggio nei rapporti amorosi fidatevi del vostro sesto senso capricorno un'idea brillante vi mette in luce lasciate però che ogni cosa maturi da sé il tempo gioca a vostro favore in amore possibilità di vivere nuovi incontri stasera siate intraprendenti ed anche anticonformisti acquario fate in modo che siano le amicizie e i contatti umani a essere in primo piano venerevi da comprensione e disponibilità al dialogo disintossicatevi la mente con buone letture salute in netta ripresa curate il vostro look pesci molta energia vitale fate del moto e cogliete le occasioni giuste per vivacizzare la vostra giornata non chiudetevi voi stessi apritevi con qualcuno che merita piena fiducia amici influenti si rifanno vivi favoriti i contratti e le associazioni non chiudetevi